Buonasera a tutti, è una bellissima cosa vedervi qui perché mi sento di trovarmi in mezzo degli amici e quindi diventa un momento particolare. Noi siamo arrivati a questa giornata in seguito ad un fatto che è avvenuto martedì per cui mi è arrivato sul cellulare una serie di messaggini che avevano già il tema di questo patto e quando poi ho letto il patto vi devo subito in qualche modo confessare che è stato un momento di emozione, grande emozione, un momento che mi ha anche richiesto qualche giorno perché volevo spazzar via l'aspetto emotivo e lasciare spazio invece all'aspetto più razionale e più organizzativo. Quindi oggi siamo arrivati qui con una serie di fatti che si sono succeduti in questi mesi e finalmente arriviamo alla conclusione di un percorso che è stato un percorso lo ammettiamo non facile e con quel documento siamo arrivati a capire una cosa importante che in realtà l'Unione ci garantiva, ci garantisce la possibilità di vincere le elezioni in questa città. In questi giorni ho riflettuto molto, sono stati giorni molto interessanti, vi dico anche che ringrazio in questo momento tutte le persone che mi sono state vicine che sono arrivate con una quantità incredibile di messaggini, di mail, di suggerimenti, di consigli, di supporti di vario genere. Non avrei mai immaginato. Quindi assieme a tante altre considerazioni che poi magari vediamo insieme perché poi non si arriva mai ad un gesto di questo tipo senza avere una motivazione profonda. Io so di avere alle spalle un passato politico abbastanza recente, molto giovane. Abbiamo cominciato dieci anni fa con il Comitato Santa Croce e questo in qualche modo identifica la mia provenienza, la nostra provenienza. Con un grande orgoglio che oggi il Comitato Santa Croce arriva in qualche modo a testimoniare la sua coerenza assumendo un incarico importante. segno del fatto che il tema dell'ospedale, della sanità nella nostra città è assolutamente prevalente. Gli altri considerazioni che io inevitabilmente farò perché non sono soltanto un consigliere comunale ma sono soprattutto una donna, sono una mamma, sono una moglie, sono un insegnante è il fatto che mi ritrovo nella vita quotidiana ad accorgermi come tutta la vostra presenza mi testimonia che questa città sta assumendo un profilo abbastanza preoccupante. Quando penso alle mie figlie le vedo già proiettate in un mondo fuori da questa città se vorranno avere un futuro. Quando penso ai ragazzi della mia scuola li vedo già lontani. Mi hanno mandato tantissimi messaggi addirittura da Copenaghen, Copenaghen uno e Londra un altro. Questo vuol dire che i nostri migliori ragazzi quando vogliono cominciare ad avere una vita professionale sono costretti ad emigrare. Ne parlo da donna, da donna lavoratrice che conosce tutti i problemi legati alla possibilità di coniugare la vita professionale con la vita familiare. Una donna lavoratrice che con i figli ha le sue difficoltà in una città che non è strutturata. Ne parlo con la consapevolezza di chi da dieci anni lavora sul tema della sanità e che ha sviscerato tutte le possibilità, tutte le condizioni, tutte le ha analizzato in profondità e ha capito che c'è un profondo problema che è quello della finzione. Allora siamo sommersi in una realtà di finzione. Noi abbiamo una città che sta assolutamente sprofondando in una situazione inaccettabile. Quindi nel momento in cui c'è stata la possibilità e martedì le forze politiche si sono coniugate insieme per trovare un'unità, mi sono detta che questa era la sintesi migliore che poteva portarci ad una possibilità di cambiare davvero. Noi dobbiamo cambiare questa situazione. Lo dobbiamo fare per le nostre famiglie, per i nostri figli, per il nostro futuro, per la nostra coscienza, mi viene voglia di dire. Perché poi alla fin dei conti è tutto quello che ci spinge, è la voglia di poter fare qualcosa di buono per la nostra città. Quindi io dichiaro ufficialmente in questo momento che accetto la candidatura per il 2019. Che non vuol dire che non abbiamo da fare, perché da adesso in poi si comincia a lavorare. Quindi adesso abbiamo assolutamente, cornetto rosso ci serve, direttamente dalla Sicilia, grazie, contro l'invidia, ci piace questa cosa. Bene, i temi ovviamente non potremo stasera sviscerare tutto quello che abbiamo in mente. La progettualità che abbiamo in mente è molto ampia, è molto complessa e si basa soprattutto sulla possibilità di mettere in campo una serie di competenze che grazie al fatto che siamo un nucleo molto molto allargato e che rappresentiamo una serie di anime diverse, abbiamo interessi diversi, abbiamo competenze diverse, abbiamo capacità diverse. Quindi tutte le nostre energie saranno spese per costruire un progetto ovviamente realizzabile, niente di, diciamo così, fantascientifico, però devono essere volte ad un obiettivo principale, quello di cambiare l'andamento di questa città che sta progressivamente soffocando. È una sensazione, non è una, scusate, non è una sensazione, è un dato di fatto. Quindi i temi ovviamente, io rispetto molto, ho un mito della parola, perché per me la parola ha un significato profondo, quindi non ne spreco. Per cui anche le cose che andremo a dire ora, è chiaro che non possono essere esaustive, devono essere semplicemente un modo per dare degli spunti di riflessione. Poi avremo tempo e modo in altre sedi di approfondire e di lavorare su alcune idee. Ovviamente il tema principale è la sanità. La nostra storia ce lo dice, siamo qui quasi prevalentemente per il problema della sanità nella nostra città, che non è solo della nostra città, è di tutta la provincia, ma noi dobbiamo affrontare ciò che direttamente ci riguarda. Quando pensiamo alla sanità, ripeto, non avremmo bisogno di, in qualche modo, di parlarne, perché chi ci conosce, chi ci segue, sa bene che siamo su questo tema da tanto tempo e abbiamo anche sviscerato e denunciato costantemente tutto quello che stava succedendo. E' stato svuotato il nostro ospedale, nonostante i proclami, nonostante tutte le finzioni e le bugie che ci vengono dette, il nostro ospedale è stato svuotato. Chiunque ha occasione di frequentarlo se ne accorge. Quindi qual è il nostro obiettivo? Sicuramente recuperare la piena funzionalità, perché Santa Croce è ridotto all'osso, poi con l'idea di continuamente spostare, traslocare i vari reparti, rischia addirittura di perdere anche quello che c'è ora. Concretamente cosa possiamo fare? Chiaro che il problema sanità non è di competenza comunale, è un problema di competenza regionale, però sicuramente fare catenaccio insieme contro questa deriva può comunque dare una spinta a fare delle scelte che possano essere diverse. Sempre rimanendo dell'idea comunque che il prossimo futuro, di cui a breve avremo le elezioni regionali, ci auguriamo che significhi una svolta definitiva anche al governo regionale. Questo vorrebbe dire salvaguardia del nostro ospedale come di altri. Noi abbiamo l'assoluta necessità di tutelare l'ospedale di Fano, perché una città di 60.000 abitanti con un insieme di comuni limitrofi che in totale superano i 130.000 abitanti, non può stare senza un ospedale completo. Assolutamente. È chiaro che poi noi nel locale qualcosa possiamo fare, possiamo sempre tenere alta l'attenzione, possiamo fare in modo di avere un osservatorio continuo, possiamo stare a fianco dei cittadini che incontrano eventualmente tutte le varie difficoltà, perché questo può comunque essere di aiuto. No all'ospedale unico, lo diciamo da sempre, probabilmente non avremmo neanche bisogno di doverne parlare ancora. La sicurezza è un altro dei nostri problemi. ed è un problema di chi conosce la città. Io vengo da questa città da sempre, nel senso che io sono nata in questa città, i miei genitori sono di questa città, i miei nonni e i loro nonni ancora. Quindi questa città è profondamente radicata, la conosco da sempre. E so bene che cos'era una vitalità, una vivibilità della nostra città vent'anni fa e che cosa è diventata oggi. Non è possibile suggerire, vedere i propri figli che escono di casa e suggerire di non passare in determinate zone. Non è possibile aver timore di andare a prendere una persona in stazione alle 10 di sera. Non sto dicendo alle 2 di notte, sto dicendo alle 10 di sera. Non è possibile dover lasciare l'auto lontano perché ha il timore che possano in qualche modo subire. Non va bene. La nostra città non può essere vivibile soltanto d'estate, durante le feste. Dobbiamo poter camminare tranquilli in qualunque momento. Dobbiamo poter andare in giro per il lido di notte, d'inverno, perché comunque è un posto estremamente affascinante, senza avere la paura di qualcuno che poi ci salti addosso. Perché questo succede. Quindi cosa vogliamo fare? Assolutamente dobbiamo recuperare la funzionalità e la vivibilità attraverso la presenza delle persone. Le associazioni in questo sono molto utili. Quando pensiamo al disagio giovanile, lo consideriamo soltanto come un problema spesso di ordine pubblico. In realtà il disagio giovanile ha una matrice molto più profonda che una matrice educativa, una matrice sociale. Abbiamo bisogno di lavorare sulla prevenzione, abbiamo bisogno di lavorare sull'educazione dei giovani per prevenire i fenomeni che poi comunque hanno una ricaduta anche sulla sicurezza della città, sullo spaccio di droga, sulle dipendenze, su tutto ciò che poi comunque può provocare un disagio. Le forze dell'ordine ci chiedono di essere al loro fianco, ci chiedono il sostegno, ci chiedono quantomeno il sostegno morale, ci chiedono di poter essere apprezzate per il lavoro che hanno. Poi è chiaro che vivono una debolezza cronica per quanto riguarda gli organici che non può risolvere il comune, ma il comune, il suo sindaco, la sua giunta può, a ragione, andare nelle sedi di competenza a chiedere un rafforzamento e un innalzamento della categoria perché il nostro commissariato possa diventare un commissariato di una città di 60.000 abitanti che solo apparentemente sembra una città tranquilla. Dobbiamo temere, questo ci dicono in qualche modo gli esperti, le città dove ci sono i bassi tassi di denuncia perché se quelle città hanno una bassa criminalità vuol dire che in quelle città si stanno dando qualcosa di abbastanza pericoloso. E questi sono tutti i campanelli di allarme che ci arrivano. Ci arrivano da fuori tranne invece che nella provincia di Pesaro queste cose non vengono mai recepite e raccolte. Si preferisce dire la provincia felice e invece tanto felice non è. Toleranza zero. Toleranza zero contro lo spaccio, contro la criminalità e contro anche la delinquenza semplice. Degrado. Le due cose sono estremamente vicine, sono due facce della stessa medaglia. Noi lo sappiamo che una città di qualità, una vita di qualità passa anche attraverso i luoghi, il decoro, la pulizia e l'ordine dei luoghi. E' come quando a scuola imponiamo ai ragazzi di rispettare l'istituzione e poi li lasciamo in aule sporche, disadorne, magari con i muri sbrecciati. L'istituzione si apprezza e si rispetta laddove ci sono gli elementi per apprezzarla e rispettarla. Non occorre imporsi. Non occorre imporsi. Bisogna amare la propria città. E se è pulita l'amo di più. E se è pulita la amo e rispetto chi la tiene pulita. La città deve diventare un bene comune, un bene proprio, un bene personale. Dobbiamo cercare di far capire che attraverso una forma anche di educazione ai beni comuni, alla salvaguardia dei beni comuni, possiamo riappropriarci della vivibilità della nostra città. I quartieri periferici, chi di noi vive in periferia si rende conto. Cioè basta passeggiare a Lido, basta vedere qualunque quartiere della nostra città, basta vedere Rosciano, basta vedere Cucurano, cioè andiamoci, vediamo lì questi quartieri. Non c'è rispetto per, in qualche modo, il disagio di queste persone di dover venire in centro, che se no, piste ciclabili non ci sono, i parcheggi sono un problema. Abbiamo una serie di situazioni delle periferie che vanno assolutamente recuperate e vanno assolutamente messe al centro della nostra attenzione. Come possiamo fare? I cittadini sono importanti in tutto questo, non occorre che venga dall'alto l'indicazione. Il coinvolgimento delle associazioni, il coinvolgimento di tutto il mondo del volontariato, che è una ricchezza incredibile della nostra città. Noi abbiamo una quantità di associazioni di volontariato che, io dico sempre, sono tutte le persone che sono, le persone brave, che sono fuggite dalla politica e che si sono andate a, in qualche modo, a produrre, a riproporre, nella loro forma migliore, nell'aiuto, nell'aiuto degli altri e degli spazi in cui si vive. Quindi va assolutamente recuperato il concetto di sussidiarietà. dobbiamo collaborare, dobbiamo poter pensare che un bene comune, in quanto comune, possa essere condiviso. E quindi non soltanto protetto e tutelato da chi ne ha la proprietà. e ultimo, ma sicuramente non meno importante, è il futuro. Noi abbiamo vissuto in questi ultimi anni una progressiva espogliazione. Non è un caso, nulla accade per caso. Questa città è diventata progressivamente, come qualcuno l'ha definita, un quartiere dormitorio. Cioè un posto dove i servizi principali non ci sono più, dove si viene a lavorare, dove si viene a dormire, dove in realtà la sensibilità rispetto al concetto di città si sta venendo a dissolvere. È una città che in questi anni ha visto svendere i suoi tesori preziosi. Non abbiamo più l'ospedale, l'abbiamo già detto, è quasi morto. Non abbiamo più un tribunale, avevamo una serie di risorse che ci sono state spogliate, però dobbiamo anche renderci conto che oltre alle cose che prima avevamo e che adesso non vediamo più, ci sono anche tutte quelle che in realtà avremmo potuto avere, sono meno visibili. Sono meno visibili. Tutti quei finanziamenti che avremmo potuto in qualche modo, come si dice adesso, intercettare, che va di modo questa parola, intercettare e che non abbiamo fatto, che avrebbero potuto arricchire la nostra città. Quindi non è soltanto in qualche modo un meno che dobbiamo considerare, ma dobbiamo anche vedere quello che non abbiamo in più. Occasioni perse, ce ne sono state tante, me ne viene in mente una per tutte, la possibilità di recuperare la ferrovia a Valle del Metauro e se si fosse corsi subito a chiedere i finanziamenti nel momento in cui gli altri gli andavano a chiedere. A Roma si aspettavano il nostro sindaco e il nostro sindaco non è mai andato. Questa è una situazione per tutte, una situazione assolutamente che noi abbiamo comunque stigmatizzato e abbiamo in qualche modo criticato. La nostra visione di città è una visione dinamica. Non possiamo incernierare, inchiodare la visione di città ad una semplice schema, slogan. Abbiamo visto in questi momenti, in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi una mancanza totale di progettualità. Una città allo sbando perché non esiste un progetto organico che la porti da un punto ad un altro secondo una visione di città. Abbiamo visto investimenti, finanziamenti regalati a pioggia senza un motivo, senza una causa. Abbiamo visto variazioni di bilancio continue. Il bilancio di febbraio già a marzo subiva una variazione di bilancio. Manca di progettualità. Noi abbiamo bisogno di una città che progetti non sull'anno, non sul bilancio annuale, ma progetti un'idea oltre un ordine temporale che è quello della fine naturale di un'amministrazione. Noi abbiamo bisogno di pensare sul lungo termine. Se poi le amministrazioni si succedono in quel lungo termine ben venga, ma il progetto deve essere una visione, una visione che guarda lontano. Non possiamo fermarci. Noi abbiamo bisogno di dare fiducia ai nostri giovani. Dobbiamo creare le situazioni perché i nostri giovani possano rimanere con le loro risorse, con la loro creatività nella nostra città. Non possiamo più vedere che se ne vanno. non possiamo più vedere è una perdita in termini di risorse umane e anche di risorse economiche. Noi abbiamo bisogno di recuperare tutto quello che è il nostro patrimonio culturale, tutto quello che è il nostro patrimonio di tradizioni che ci caratterizza. Non mi piace sentire la parola campanilismo. Il campanilismo non è un difetto, il campanilismo è un pregio. Può essere campanilista e amare il proprio campanile chi ha una tradizione, chi ha una base, una terra in cui è nato e in cui è cresciuto e una terra che gli ha offerto qualcosa, altrimenti non avrebbe senso. Quindi la nostra visione di città, noi vogliamo assolutamente recuperare tutto quello che è il gap che si è perso. In questi cinque anni non possiamo neanche dire se ci mettiamo a confronto col 2014 che sia rimasta statica. No, siamo andati giù, abbiamo perso. Abbiamo perso soltanto nell'ultimo anno il gap di aziende che hanno chiuso, siamo a meno 89, tra quelle il saldo negativo. Meno 89 significa una cosa ghiacciante. Se pensate che poi sono prevalentemente distribuite in quei settori, che trainano l'economia e che quindi voglio dire perse quelle abbiamo perso la speranza per gli anni successivi. Penso alle 30 aziende di costruzioni, penso alle aziende di manifatturiero, penso ai negozi, penso ai commercianti. Meno 89 sono una quantità veramente preoccupante. Questa è la città che sta soffrendo di più. In intera regione avete visto i dati, la situazione non è sicuramente erosia, ma noi siamo quelli che soffrono il peso maggiore. I tassi di disoccupazione nel corso del tempo degli ultimi anni sono continuamente aumentati. L'anno in corso vede un tasso di disoccupazione addirittura superiore a quello dell'anno scorso. Quando nelle altre città limitrofe il tasso di disoccupazione finalmente ha continuato a scendere. Non vogliamo fare l'esempio con grandi città dove magari non c'è quasi mai stato il tasso di disoccupazione. Negli ultimi anni è a causa della crisi ma le città vicine, le città come Rimini, le città come Ancona per esempio vedono risalire la china. Perché fanno no? Che cosa è successo che ha impedito questa possibilità? Quando mai vi è capitato negli ultimi cinque anni di sentir parlare di un progetto economico per la città di un progetto di supporto alle aziende di un progetto di sostegno ai negozi ai negozianti del centro viene detto vi sosteniamo e poi dopo ai negozianti invece dei grandi centri commerciali viene data la possibilità di aprirne sempre di nuovi. C'è un'incoerenza di fondo c'è un'incapacità probabilmente di vedere una visione unitaria è vero che magari è più comodo e facile per un sindaco andare a fare promesse a tappeto a tutti ed è più comodo e facile magari arrivare a in qualche modo così per raccogliere consenso arrivare a cedere su tante cose noi abbiamo bisogno invece di solidità di solidità e di prendere posizioni nette quando avremo la nostra possibilità di poter mettere in atto quello che stiamo dicendo vedrete che in realtà siamo persone solide siamo persone capaci di poter operare e agire in quest'ultimo periodo in quest'ultimo anno io ho potuto conoscere una squadra molto interessante che sono i ragazzi che li chiamo ragazzi perché sono più giovani di me ma in realtà non siamo poi più tutti giovanissimi la squadra dei consiglieri comunali è stata una squadra con cui negli ultimi mesi abbiamo costruito lavorato soprattutto un progetto di collaborazione quando tutta la stampa diceva che noi eravamo divisi il centrodestra che era seduto in consiglio comunale produceva cose all'unità e quindi abbiamo già testato in prima persona quello che possiamo effettivamente ottenere mi piace concludere con una frase che sicuramente molti di voi conoscono e questa è una delle frasi che mi è stata quindi ho iniziato parlando della mia profonda femminilità perché si riversa inevitabilmente nel fare siamo tutti consapevoli che il pragmatismo in questo momento è l'arma vincente non abbiamo bisogno di parole non abbiamo bisogno di sindaci che stringano mani che vadano alle inaugurazioni e facciano feste di compleanno abbiamo bisogno di sindaci che stanno dietro una scrivania a pensare a dire a guidare a suggerire a controllare ma non abbiamo bisogno di altro abbiamo bisogno di cose semplici pragmatismo determinazione e soprattutto un bel gruppo di amici che si battono per la loro città grazie 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 grazie